Gloria a Dio, pace a tutti, fratelli e sorelle, siamo qui, io e caro fratello Bruno, questo giovane soldato di Cristo, per la gloria di Gesù Cristo in questo video, questa breve riflessione che dedicheremo per la gloria di Dio affinché ci edifichiamo, affinché ci incoraggiamo, affinché ne capiamo il valore della morte di Gesù Cristo, il nostro Signore, Salvatore, sulla croce, sulla croce, il nostro Signore, il nostro Salvatore, noi abbiamo bisogno di capire o di comprendere il valore della morte di Gesù Cristo, il nostro Signore, sulla croce, Amen! Oh gloria a Dio, quanto è importante comprendere la morte di Gesù Cristo che ha compiuto sulla croce, per noi peccatori, Amen fratello Bruno, Amen! Alleluia! Quanto è importante comprendere la morte sulla croce di Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore, benedetto in eterno, vogliamo aprire le nostre Bibbie e leggere nel libro dei Galati, Gloria a Dio, libro dei Galati, lettere Galati, capitolo 6, capitolo 6, verso 17, Amen! Dice così, Dio benedica a tutti voi collegati in diretta, dice, Da ora in poi nessuno mi dia molestia, perché io porto nel mio corpo il marchio di Gesù, Amen! E un'altra versione dice, io porto nel mio corpo i segni di Gesù Cristo, in questa altra versione dice, io porto nel mio corpo il marchio di Gesù, Oh gloria a Dio, noi abbiamo il marchio di Gesù Cristo nel nostro corpo, prima che ci convertivamo avevamo il marchio di Satana, il marchio del diavolo, che Dio lo sgridi nel nome di Gesù, ma ora noi abbiamo il marchio di Gesù nel nostro corpo, abbiamo i segni della morte di Gesù Cristo sulla croce nel nostro corpo, è scritto in Galati, capitolo 6, verso 17, io porto nel mio corpo, qui diceva Paolo, e questo vale anche per noi, io porto nel mio corpo il marchio di Gesù, Amen! I segni di Gesù Cristo, prima nel mondo avevamo i segni del diavolo, avevamo il marchio di Gesù, il marchio di Satana, ma Dio l'ha tolto e ha messo il marchio di Gesù, i segni di Gesù dentro di noi, nel nostro corpo, come dice qui nella lettera di Galati, al capitolo 6, verso 17, Oh gloria al Signore, noi abbiamo il marchio di Gesù dentro i nostri cuori, oh inciso nei nostri cuori, nella nostra anima, nel nostro corpo, nel nostro spirito, nella nostra mente, tu fratello e sorella, hai il marchio di Gesù Cristo dentro di te, Amen! Amen! Se ce l'hai, scrivi Amen! Alleluia! Noi abbiamo il marchio di Gesù, noi abbiamo i segni di Gesù, nel nostro corpo, quanto è importante il valore della croce, perché Gesù sulla croce ha vestato il sangue per noi, per noi peccatori, anche io, Gesù ha vestato il sangue sulla croce per noi, quel sangue prezioso, sulla croce, e noi abbiamo il marchio di Gesù, come è scritto qui in Galati, capitolo 6, verso 17, è scritto, da ora in poi nessuno mi dia molestia, perché io porto nel mio corpo il marchio di Gesù, i segni di Gesù Cristo nel nostro corpo, Alleluia! Noi abbiamo il marchio di Gesù nel nostro corpo, gloria a Dio, quanto è importante avere il marchio di Gesù nel nostro corpo, prima avevamo il marchio di Satana, scrive Emanuele, Pace Raffaele, la comunità di Arezzo ti saluta, mandaci un saluto, pace! Pace a te Emanuele, salutami tutti, la comunità lì ad Arezzo, un abbraccio nell'amore del Padre, gloria a Dio, salutami tutti, pace! Vi mando il saluto qui da Milano, provincia di Vigevano, gloria al Signore, come stavo dicendo, provincia di Pavia, scusate, come stavo dicendo, noi dobbiamo avere il marchio di Gesù nei nostri cuori, oh, quanto è importante, oh, quando noi accettiamo Gesù, veniamo suggellati con lo Spirito Santo, noi veniamo suggellati col marchio nel nostro corpo, gloria a Dio, noi abbiamo un marchio spirituale nel nostro corpo, nel nostro cuore, oh, gloria a Dio, e se tu hai il marchio di Gesù nel tuo cuore, i segni della morte di Gesù nel tuo cuore, oh, tu avrai la vita eterna, noi veniamo marchiati, segnati, oh, gloria a Dio, tu sei segnato per Dio, io sono segnato per Dio, gloria a Dio, quando ti vedono i demoni, quando ti vede il diavolo, lui ti vede, dice, io conosco Gabriele, io conosco Emmanuel, io conosco Bruno, io conosco Raffaele, lui c'è il marchio di Gesù nel suo corpo, lui c'è i segni di Gesù Cristo nel suo corpo, oh, gloria a Dio, tu devi avere il marchio di Gesù nel tuo cuore, sì, nel nostro cammino possiamo cadere, possiamo venire in meno, ma nel nostro cuore ci sarà sempre quel marchio che Dio ha messo, il marchio di Gesù come è scritto nella lettera ai Galati che abbiamo letto, capitolo 6, oh, i segni della morte di Gesù nel nostro corpo, gloria a Dio, noi dobbiamo avere il marchio, oh, tu devi togliere il marchio di Satana che hai, tu ti ascolti, hallelujah, gloria al Padre, e chiedere a Dio il marchio di Gesù, i segni di Gesù, quanto è importante, scrive Emmanuel, grazie fratello, gloria a Dio, quanto è importante avere il marchio di Gesù nei nostri cuori, oh, gloria a Dio, i segni della morte di Gesù, ogni giorno noi dobbiamo ricordarci della morte di Gesù Cristo, ogni giorno noi dobbiamo aggrapparci a Gesù Cristo, ogni giorno noi dobbiamo dire, Padre, lavami con il sangue di Gesù, Padre, purificami con il sangue di Gesù, Padre, coprimi con il sangue di Gesù, Padre, io sono marchiato, hallelujah, io sono marchiato, pace Stefano, pace del Signore carissimi, pace Stefano, Dio ti benedica, siamo marchiati, hallelujah, il marchio di Gesù nei nostri cuori, oh, noi dobbiamo avere, hallelujah, 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 il marchio di Gesù, per tutta la vita nei nostri cuori, fratelli, in che città ti trovi? fine una settimana fa, ero in Abruzzo, gloria a Dio, ora sono qui a Vigevano, provincia di Pavia, che poi, con il treno, si arriva anche subito a Milano, al centro, una mezz'oretta di treno, sono a Vigevano, qui c'è bisogno, fratello Emanuele, prega per me, con tutta la chiesa, shalom, stavo dicendo, fratelli, noi dobbiamo avere il marchio di Gesù nei nostri cuori, il sangue di Gesù, che ci lava, che ci purificherà ogni peccato, che ci perdono i nostri peccati, che ci libera, che ci libera, anche dalle schiavitù, dai vizi, dai peccati, alleluia, abbiamo bisogno, Dio benedica questo uomo, che ascolta, anche tu, e avere il marchio di Gesù, ammè, ammè, alleluia, gloria al Padre, noi abbiamo bisogno, cari, del marchio di Gesù Cristo, nel nostro cuore, il fratello Bruno, questa mattina, mi ha detto, leggi questo verso, il marchio di Gesù, i segni di Gesù, nel nostro cuore, Gesù è morto sulla croce, o avere i segni di Gesù, o avere i segni di Gesù, il marchio di Gesù, il nostro cuore, per concludere questa riflessione, pensiamo alla morte del Signore, Pino scrive, io mi trovo nella provincia di Catanzaro, e frequento la comunità, fonte di grazia, di me, so, racca, gloria a Dio, provincia di Crotone, suonate con potenza, la tromba del Vangelo, scrive Stefano, Amen, che Dio vi accompagna, nel servizio che sforgete, scrive Leonardo, cari fratello e sorelle, gloria a Dio, noi siamo privilegiati, perché noi abbiamo il marchio di Gesù, gloria a Dio, non abbiamo più il marchio di Satana, orra, ma casci che in noi, possiamo cadere, possiamo venire meno, ma noi siamo marchiati, dal marchio di Gesù, dai segni della morte di Gesù, sulla croce, dentro il nostro corpo, il diavolo non ha più potere, su di noi, il peccato non deve regnare più, nei nostri corpi, perché abbiamo il marchio di Gesù, i segni della morte di Gesù, nel nostro corpo, siamo coperti, siamo lavati, siamo purificati, dal sangue dell'agnello, dal sangue di Gesù Cristo, c'è potenza, questa sera, invoca il sangue di Gesù, il sangue di Gesù che ci lava, che ci guarisce, che ci purifica, dai nostri peccati, amén, gloria a Dio, nel nome di Gesù, pregate, questo uomo, che fratello Bruno, sta prendendo contatto, con un numero, che si è toccato, la parola del Signore, allia, oh preghiamo, oh Dio, Dio Unipotente, anche tu che ascolti, per la prima volta, e quando ascoltarai questo video, Dio piacendo, Dio vuole mettere il suo marcio, i suoi segni, nel tuo cuore, nel tuo corpo, oh alleluia, Gesù Cristo, oh la Bibbia dice, chi ha Gesù ha la vita, ma chi non ha Gesù, non ha la vita, oh ricevi la vita, ricevi il marcio di Gesù, nel tuo cuore, ricevi i segni di Gesù, sulla croce che è morto, che ha vessato quel sangue prezioso, per noi peccatori, oh alleluia, Gesù ti vuole liberare, Gesù Cristo ti vuole perdonare, i tuoi peccati, tramite il suo sangue, che ha vessato sulla croce, e ti vuole mettere il marcio di Gesù, dentro il tuo corpo, i segni dentro di te, amen, scrive Marco, chi ha orecchi per dire oda, amen, il marcio di Gesù, gloria, 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 al nome del Signore, oh gloria a Dio, e sgrida il diavolo, che ti accusa, che ti accusa, che ti vuole condannare, tu sgrida, digli, Satana, bugiardo, io ho il marcio di Gesù, è vero sono caduto, è vero sono venuto a meno, ma io ho il marcio di Gesù, nel mio cuore, io ho i segni, della morte di Gesù, nel mio cuore, io ho il sangue di Gesù, che mi lava, il sangue di Gesù, che mi copre, il sangue di Gesù, che mi purifica, da ogni peccato, alleluia, benedetto, il nome del Signore, lodato sia il Signore, glorificato sia il Signore, il re del re, alleluia, 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 benedetto il Padre, dichiariamo questa sera, che noi abbiamo il marchio di Gesù, nel nostro cuore, abbiamo i segni, della morte di Gesù, nel nostro cuore, oh alleluia, abbiamo la vittoria, per il sangue di Gesù Cristo, amen fratelli, vi abbracciamo, vi salutiamo, io e il fratello Bruno, gloria a Dio, nell'amore del Signore, manda un saluto fratello, per concludere questa riflessione, Dio vi benedica, nel nome di Gesù Cristo, pregate per noi, siamo qua, alleluia, portare il messaggio di Gesù, amen, ce l'hai il marchio di Gesù, come diceva il fratello Raffaele, e portandovi il marchio di Gesù, amen, alleluia, quando avrai giudizio, se no il Signore ti nascerà qua, se tu non hai il marchio di Gesù Cristo, amen, alleluia, se non lo hai, invocalo, digli Signore, dammi il marchio, alleluia, oh shakata iso, amen, pregate per noi, Dio benedica il fratello Stefano, il fratello Marco Capozzoli, amen, Dio vi benedica, nel nome potente di Gesù Cristo, il benedetto in eterno, amen, amen, e amen.